Giovedì 15 maggio, presso il Polo degli Adelardi, si è svolto l'ultimo dei seminari organizzati dal Laboratorio di Studi Urbani dell'Università di Ferrara, dal titolo La Mafia, lo Stato e la Società Italiana, storie di una relazione pericolosa. La giornata è stata aperta da Matteo Galli, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Di seguito l'introduzione di Alfredo Aglietti, docente di Sociologia Urbana e del Territorio. Quindi ha preso parola il noto ospite, Nando Dalla Chiesa, il quale ha parlato dell'organizzazione mafiosa e dei suoi requisiti, delle fasi della sua economia e di molti altri argomenti, andando a focalizzare come queste realtà siano legate con il mondo della droga, della violenza, del reato. Nando Dalla Chiesa è inoltre puntualizzato come queste organizzazioni siano profondamente intrinseche al territorio su cui esercitano il potere e il controllo. Non sono mancati esempi concreti e citazioni ad esperienze di vita personali, a cui sono seguite le domande da parte dei presenti, studenti e non, i quali sono stati ampiamente coinvolti dal carisma e dai racconti di Nando Dalla Chiesa.